Una tragedia infinita e non possono bastare le parole, non può esistere definizione di ciò che oltrepassa ogni contorno, ogni senso della vita di un genitore quando è costretto ad affrontare la perdita prematura di un figlio. Maurizio Zamparini racconta di avergli mandato un messaggio proprio due giorni fa, in bocca al lupo, un incoraggiamento alla vigilia di un giorno importante per Armandino. Avrebbe iniziato a lavorare per una grande azienda londinese. Il destino o il caos o quel che si c'era dietro al mistero della morte quando arriva così giovane ha voluto diversamente. Armando Zamparini è stato trovato senza vita nella sua camera dell'appartamento di Londra dove viveva da qualche anno. È stata la domestica che ha subito dato l'allarme, fino a poche ore prima aveva condotto la vita di sempre, aveva incontrato i colleghi di lavoro con i quali impiegava ogni energia su un progetto imprenditoriale. Le cause del decesso non sono state comunicate, sono al momento in corso indagini mediche. A quelli in bocca al lupo Maurizio Zamparini non ha mai ricevuto risposta perché Armandino dice tra le lacrime alla Repubblica, l'altro ieri è morto, è una tragedia infinita. Armando era il più piccolo dei figli di Zamparini, l'unico del suo secondo matrimonio con Laura Giordani. Aveva studiato marketing in Italia laureandosi alla prestigiosa Scuola Internazionale di Trieste, poi i primi passi nella Zampa e Nilo, azienda di famiglia, fino al master a Londra. Giovedì pomeriggio l'ultimo drammatico atto della sua breve vita. La città di Palermo dalla società Rosa Nero a tutti i tifosi, alle emittenti e testate giornalistiche che hanno seguito da vicino i 17 anni dell'imprenditore friulano alla guida del Palermo, si sono stretti al dolore di Zamparini, di Laura Giordano e di tutti i cari di Armandino.